Il tempo è scaduto, l'ultimatum arriva dall'unione degli studenti, ancora una volta riguarda le borse di studio. Negli atenei abruzzesi stanno ricominciando le lezioni, ma le borse di studio ancora non si vedono e questo per oltre 3.000 studenti e studentesse, con tutte le difficoltà che ne derivano per il pagamento degli affitti, dei trasporti e per l'acquisto dei beni di prima necessità. Gli studenti si sentono presi in giro e sono troppi anni che vivono in una condizione inaccettabile, per cui richiamano la politica agli impegni presi. Si pensa alla campagna elettorale, dicono ma non a loro. La questione viene denunciata dall'unione dell'Aquila e Teramo, che chiama ancora una volta in causa alla regione per chiedere la copertura totale delle borse di studio. I numeri parlano chiaro, gli studenti in Abruzzo sono in calo e le motivazioni sono note, un diritto allo studio inattuato, un trasporto pubblico inadeguato alle esigenze e anche in generale una totale indifferenza rispetto a quelle che sono le tematiche universitarie. Non è certo la prima volta che l'Udo irrompe con queste problematiche nel dibattito, ma bisogna rilevare che non ci sono state risposte ora l'outout è perentorio, pretendiamo un camionetto, pretendiamo rispetto e lo pretendiamo ora.